su un naso sul naso la tipica scottatura sul naso non manca mai mai, mai, mai excellent ok, so ciao 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 grazie di essere qui 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 come oggi so che probabilmente starei provando un caldo ma un caldo ma un caldo incredibile e io oggi sono qui sono qui per aiutarti a rinfrescarti come se di fuori piove quindi già se quando guardrai tu questo video non pioverà immaginati una bella pioggia fresca che spezza il caldo immagina anche l'odore della pioggia meraviglioso magico prima di cominciare a rinfrescarti voglio mostrarti i gioielli che ho indosso queste due collane un joker una collana questo paio di orecchini e questi due orecchini qui sono tutti di pure lei che ha gentilmente sponsorizzato questa parata di video e vi mostro i modelli e vi do anche un codice sconto dopo i gioielli pure lei sono di ispirazione hawaiiana stanno meravigliosamente con le bronzature sono anche pensati per essere portati in spiaggia essere indossati in acqua quindi non si rovinano assolutamente io li trovo meravigliosi mi ci trovo molto molto bene vi faccio vedere meglio ciò che indosso ho provato a fare un po' di combo allora partiamo dal joker il joker si chiama spero di pronunciarlo bene ilalo lo scrivo anche qui ed è meraviglioso si può indossare sia così che un po' più lungo infatti ha due due nellini per fissarlo per chiuderlo e la colonna sotto è una delle mie preferite si chiama rainbow perchè ha appunto tutti questi ha appunto tutti questi ciondolini colorati e anche questo può essere indossata è un po' più corta dipende dalle vostre preferenze invece qui ho messo un paio di orecchini sullo stesso orecchio mi piace molto cambiare scambiare gli orecchini metterli dove mi pare questi si chiamano orecchini ulicreole sono veramente carini e poi qui abbiamo gli altri due miei preferiti che ho allora questo si chiama gaula e si può portare vedete si gira si può portare sia così che io mi piace qui girarlo con questo in modo che non occupi più subazzo all'interno dell'orecchio ovviamente questo è venduto nel paio di orecchini questi sono gli orecchini ovviamente questo è solo uno ma ne ho il paio e questo veramente è uno dei miei preferiti quindi ho anche un codice sconto del 25% il codice smr25 evita il 25% sul sito fino al 15 di agosto quindi per un mese ma ora ti asciugo subito il sudore ok ho queste salviette che non uso spesso per dire la verità però in piatto quando si è fuori casa sono molto utili anche solo per asciugarsi dalla sua salviette per un paio per un paio per un paio e vado che vedo che è un po' imperlato di sudore quindi lo vado a rinfrescare e ad asciugare perché allora proprio vado a togliere il sudore ecco qua ecco qua tu rilassati adesso mi prendo io cura di te quindi penso solo a rilassarti e a goderti questo questa coccola questo trattamento ecco qua molto bene molto bene rilassati ancora un po' sulla fronte eccoci qui eccoci qui benissimo molto molto bene ora volevo prima invece sbruzzarti un face mist una proprio acqua profumata sul viso rinfrescante durante l'estate personalmente ho sempre forse un'acqua 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 da spruzzare in viso me la spruzzo anch'io questa sa di cocco proprio imperdibile e rinfresca all'istante veramente è veramente piacevole ok ok senti anche l'aroma buonissima buonissima super l'infrescante di proietta in spiaggia su 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 E ora voglio ovviamente se vuoi offrirti qualcosa da bere E da mangiare Ok Allora Se non hai molta fame ti posso offrire un frutto qualcosa Ti piacciono i fichi Bene No, te ne posso fare anche solo uno Però dai, mangio qualcosa Ti dà un po' di energia E poi ti voglio offrire Una tisana fretta E ne ho scelte due per te Tra cui farti appunto scegliere la tua preferita E provate quest'anno, le avevo mai provate prima Sono molto belle anche esteticamente Se posso vedere Per te ho preso la prima che è pesca e ananas Un fresco sorso di limper Limpido penastre Queste le trovi in farmacia Sono della mia vita Marca che personalmente adoro E questo invece è kiwi e lime Guarda l'estetica Guarda l'estetica Sono bellissima Proprio ho delle tiri Allora Quello kiwi e lime È un infuso di infrescante salutare Che vi si tratta Per le tonalità Profumate Acidili del kiwi E quelle originali Tonificanti Del lime Del lime Del life Ideale per un pomeriggio D'estate Contemplando il mare Non c'è il mare qui Però Facciamo finta di contemplarlo Il secondo È pesca I ananas Dolcezze e profumo Si intrezzano In questo infuso Nel quale Due aromi Uno sottile ed elegante Uno caldo e tropicale Giocano In un'indicante armonia Do sorseggiano Nei momenti felici Che lì Queste sono Tisanesfuse Vedi E ovviamente Anche Molto Il figlio Il loro Sembra un macinino Ti faccio Sentire l'odore Questo È un po' più dolce Rispetto all'altro Sta quasi proprio Della pesca Il loro Te lo faccio sentire. Quelle di ispira di più. Ok, pesca, pesca Aranas. D'accordo? Tra l'altro anche lupito il drone ad Aranas. Questo è il filtro, guarda che carino. Ok, così è sufficiente. Si chiude così. Eccolo qua. Ed è troppo bellino, io l'adoro. Con me ho un bel po' di ghiaccio. Ho queste ghiaccioli dolcissime a forma di cuore. E li metto dal bicchiere. Alla prossima. Sembra bello dissetante. Alla prossima. 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 la lasciamo stare in infusione. C'è ancora un po' di ghiaccio. 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 Bene. Queste sono le ampolline. E oltre ad essere un trigger smr. Pazzesco meraviglioso e incredibile. Sono anche... delle ampolline che vanno messe sotto gli occhi. Ti faccio un occhio alla volta. Vanno posate così. E servono per rinfrescare i contorni occhi. E diciamo anche risvegliarla. In questo caso però ci interessa più che altro rinfrescarlo. ed è molto molto piacevole devo dire. E vado appunto prima su un occhio. E poi sull'altro. molto bene. Ecco qua. Come va? Come stai? con l'altro occhio. E' ipnotico anche. Molto affascinante. So. Qui c'è. Sì. ok, facciamo tutte e due un attimo insieme ecco qua ultimi due passaggi, intanto puoi gustarti la tisana fredda e vedo che hai già mangiato il pico per ultima coccola che ti voglio fare è metterti questa crema che si chiama proprio Cool è pensata apposta per rinfrescare ma anche per appunto diciamo aiutare la pelle a rigenerarsi dalle scottature che capitano a tutti, anch'io e mi sono scottata ha un odore molto buono, molto fresco non invadente, però è molto fresco molto molto ed è una crema è una crema, come vedi, abbastanza liquida vedi? non è corposa, non dà fastidio, è una crema estiva quindi ne prendo un pochino ecco qua e vado a stenderla soprattutto tutto sulla fronte sul naso la tipica scottatura sul naso non manca mai 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 e anche un po' su tutto il viso scendo anche sul collo molto bene ecco qua bene 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 come il feeling sulla pelle è fresco è fresco è fresco ma vedrai che agisce anche un po' per appunto eliminare la pelle e anche un po' per appunto eliminare la pelle è fresco vedrai che la scottatura migliorerà un pochino comincerà a farti anche un po' meno male o che dargli meno fastidio ultima cosina questa è molto particolare ma secondo me è perfetta poi per un sonno rigenerante e bello fresco ecco qui ti sto chiedendo a Chiara che ci rendita questa cosa e si può dire una mascherina sai quelle mascherine in gel solo per gli occhi questa è per tutto il viso e si può sia scaldare che mettere in congelatore io ho fatto la seconda cosa in questo caso ovviamente ed entro a delle palline in gel vedi alcune sono ancora un po' appangerate però l'ho tolta dal freezer un po' l'ho tolta dal freezer un po' perché non fosse veramente troppo fretta per il viso non voglio creare dei problemi ma è semplicemente fresca sto distribuendo anche le palline con tutta la maschera cercando di metterle e praticamente si mette così qui ci sono i lacci ecco forse lo vedi meglio è così ok non è la cosa che ti mette al mondo diciamo così qualcuno ti vede ma visto che ti devo vedere solo io non ci interessa ok ok bene molto bene allora vado ecco fatto adesso direi che siamo a posto che più di così per rinfrescarti direi che non potevo fare comunque questa maschera riesce a aprire la tua tisana comodamente? quindi non ti preoccupare adesso se vuoi stenditi e rilassati e goditi questa situazione di fresco e anche il sonno spero ok? ok? E augurarti una buona notte, una buona e fresca notte, e spero che queste coccole ti siano piaciute, spero ti abbiano fatto provare una sensazione di relax estremo Buon notte sognitor, buon notte sognitor, good night, sweet dreams, buonas, 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 buonas notches, le sueñas buon lunedì vedete i giorni buon lunedì buon lunedì buon lunedì un bel suonè buon lunedì che lì spera